Come Comune di Castelremondo per noi è sempre stata una prerogativa avere un museo e avere un museo nazionale. Abbiamo avuto questa possibilità e non ce la siamo fatta scappare. Quindi abbiamo il Museo nazionale del costume fulcloristico a Castelremondo. Un vanto per noi, averlo qui in questa piccola cittadina, ma che ha saputo veramente valorizzare quello che l'Associazione Fafit ci proponeva. Un unico museo in tutta Italia, qui da noi. Non abbiamo esitato ed è qui e lo valorizzeremo ancora di più. L'abbiamo riallestito insieme ai professori dell'Università di Perugia, ma investiremo sicuramente ancora, oltre che il tempo, tutte le nostre forze, tutte le nostre capacità anche nel reperire i fondi, per farlo ancora più grande, ancora più interessante e ancora più intrigante dal punto di vista proprio del visito, per far sì che i visitatori possano avere un'esperienza unica nel genere.